siamo arrivati nel centro dell'allevamento di questa specie che è stata salvata per miracolo dal captive breeding qui vediamo un piccolo è un piccolo cinghiale nano delle proteie indiane lui è sia il product manager di tutto il progetto di conservation sia veterinario qui nel centro dell'allevamento della pigme hog quindi qui 39 più ne hanno 22 nell'altro centro che è il centro di rilascio costruiscono proprio delle tane con le erbe che loro stesso tagliano e poi costruiscono queste specie di nascondigli che si possono vedere lì dove vanno a rifugiarsi all'interno qui tutta la stalla è realizzata con box che sono interconnessi quindi è possibile scambiare gli animali farli circolare all'interno di tutti i box che sono stati realizzati che hanno stato un altro aspetto importante e si diceva che la coppia viene tenuta piuttosto stabile il breeding pair è fatto in modo che produca sempre quei piccoli una volta decisa la debilità genetica che è un'attacco che è un'attacco che prevede Grazie.